bella a tutti i ragazzi bentornati sul nostro canale di un nostro nuovo video come al solito io sono gabriel io birillo oggi andremo a far vedere il nostro nuovo liquido va birillo esponicelo abbiamo miscelato con l'aroma e la basilica questo qua si chiama cuore di cocco della dream monster il liquidozzo è cioccolato al latte un cocco carabico dei pirati dei carabin ora andiamo a fare la prova di questo liquidozzo e a tirare qualche conclusione in fila c'è una bomba provalo boss lady vape è buonissimo andiamo sempre a provare sulla mac pro e druga tanta roba cremoso come d'estate ci sta bene con il cocco a me piace un bocco se si sente proprio il cioccolato al latte e al cocco buonissimo anche se è cremoso però col cocco d'estate è buono è buono anche d'estate voto 10 voto 10 mi piace più di tanto per essere per essere miscelato da noi con l'aroma ci prendo in 10 potete trovare dal svappo caffè si ricordiamo marina di carrara moriciara e la spezia andatela a trovare allora dalla tavana dello svappo è tutto se il video vi è piaciuto lasciate il like e iscrivetevi al canale vi aspettiamo sul nostro canale ciao ciao